Davanti all'hotel Landmark nella zona di Marylebone nel centro di Londra c'era un folto numero di giornalisti da aspettare a Roberto Mancini la mattinata all'indomani dell'esonero dal Manchester City. Lo iesino che era rimasto nella capitale britannica dopo la sconfitta nella finale di FA Cup è apparso abbastanza sereno e si è subito infilato in macchina evitando le domande dei cronisti. Poi ha abbassato il finestrino per farsi fotografare ma non ha voluto dire nulla. Grazie per aver guardato il nostro corso gratuito.